Radio Radicale con Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle, membro della Commissione Finanze di Montecitorio alla vigilia del voto finale sul provvedimento sulle banche in liquidazione nel giorno della fiducia. Voi avete fatto una conferenza stampa in cui avete denunciato alcune iniziative del governo che se risultassero vere sarebbero gravissime. Ci spiega che tipo di denuncia avete fatto? Siamo venuti a conoscenza grazie a delle informazioni che un paio di settimane fa il governo insieme ai membri di Banca d'Italia e il governatore e il direttore di Banca d'Italia Rossi quindi i presidenti di IVAS si sarebbero riuniti insieme ai fondi pensione in merito come oggetto dell'incontro il fondo Atlante, il fondo che dovrà acquistare le sofferenze del mercato bancario italiano, quindi un fondo speculativo e a quanto pare durante quella riunione sono state fatte pressioni sui fondi pensione affinché gli stessi acquistassero le quote del fondo Atlante quindi mettendo a rischio i soldi dei pensionati che li hanno messi nei fondi pensione sapendo che invece avrebbero potuto investire solo in prodotti poco rischiosi se dovesse risultare vera questo sarebbe veramente grave e non ci fermeremmo a semplici accuse ma chiederemmo le immediate dimissioni sia del governatore di Banca d'Italia che dei membri del governo la caduta del governo deve avvenire perché sulle pensioni non si scherza un premier che va in tv ad accusare il passato in merito al buco che si trova all'interno dell'Inps che rischia soprattutto a noi giovani di non far mai percepire la pensione non può fare pressioni affinché i fondi pensione investano in prodotti speculativi quindi presenteremo un'interpellanza e cercheremo di avere risposta dal governo ma sono sicuro che qualcuno dovrà rispondere dopo che voi giornalisti uscirete fuori e tirerete fuori queste notizie quindi aspettiamo una risposta o che sia a mezzo stampa o che sia tramite la nostra interpellanza il venerdì quindi fate comunicazione anche voi e aspettiamo una risposta da parte di Visco o di Padovan Le volevo chiedere questo, che impressione hanno fatto secondo lei e che figura hanno fatto le banche italiane dopo la Brexit. Allora, ritiene che le sofferenze siano la principale causa che hanno indotto a questa caduta più brusca rispetto alle altre piazze europee? Se volete vi spiego quello che penso sia accaduto Allora, il giorno prima sono state effettuate sicuramente perché abbiamo visto La notte del 24 sono state effettuate delle vendite allo scoperto I famosi short selling, ovvero delle operazioni mediante le quali dei fondi di investimento speculativi i famosi hedge fund prendono in prestito da banche d'affari internazionali alle quali chiedono di rastrellare Nel 2011 è accaduto con i BTP, facendo cadere il governo Berlusconi per poi far entrare Monti Nel 2016, quest'anno, accade con le azioni delle banche italiane Sappiamo per certo che sono state fatte delle vendite allo scoperto delle azioni delle banche italiane e una vendita massiccia a quanto pare di circa 60 miliardi di euro immediata e nello stesso momento ha determinato il crollo dei titoli azionari bancari Perché si fa questa operazione? Perché si prendono in prestito a un determinato prezzo e poi si vendono allo stesso prezzo, quindi ottenendo la liquidità e si ricomprano il giorno dopo quando le borse stanno crollando e i titoli sono a zero cercando di guadagnare, cercando di riuscire a guadagnare nel margine che c'è tra la prima vendita e il secondo acquisto Ma questi sono cartelli costituiti apposta, illegali, illegittimi sui quali la magistratura ma Consob in prima persona perché dovrebbe controllare borse e mercati dovrebbero controllare Ho preparato un question time, anzi vi chiedo di seguirci domani con il quale chiedo a Consob di sapere i nomi di questi hedge fund che hanno effettuato vendita allo scoperto causando il crollo di borsa internazionale in particolare della borsa italiana non è causa delle sofferenze quello che è accaduto ma è causa di un attacco speculativo di fondi internazionali caucasici e americani principalmente lo dimostreremo In merito a questo decreto del governo che scade il 2 luglio quello a favore degli investitori delle banche in liquidazione questo provvedimento che è uno dell'ultimo di una serie quanti ce ne sono stati? 13 provvedimenti, se non sbaglio 13-14 però se guardiamo all'interno dei provvedimenti le azioni a favore delle banche siamo arrivati quasi a 20 Sul DL59 vi dico chiaramente che al solito invece di andare a verificare come mai le banche hanno causato questi buchi ce la si prende con le piccole imprese, con quelle in difficoltà perché le banche andranno da loro a chiedergli, a obbligarle a mettere in garanzia i loro beni strumentali e gli immobili in modo tale che poi le banche non dovranno più passare da un giudice che prima valutava anche la situazione dell'azienda, i casi particolari oggi invece andrà direttamente nell'impresa, si prenderà i beni strumentali, si prenderà gli immobili e l'impresa con tutti i dipendenti finirà in mezzo a una strada sapete qual è la cosa ancora più assurda? che l'impresa che fornisce questa impresa che fallirà in una procedura fallimentare a causa di questo decreto verrà messa dopo la banca che inizialmente prima di questo decreto era un creditore chirografario quindi l'ultimo e invece verrà messo in prima linea perché si prenderà prima l'immobile e con quello che resterà si pagheranno i fornitori e i dipendenti uno smacco al mondo dell'impresa bene, la ringrazio ringrazio l'onorevole Alessio Villarosa del Movimento 5 Stelle membro della Commissione Finanze di Montecitorio Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie a tutti.